Enrico Cester, Ludovico Dolfo, Giulio Sabbi, dal loro granata al giallo-blu, in attesa dell'azzurro. Nome? Enrico, Ludovico, Giulio, età? 24, 23, 23, soprannome? Cesto, Ludo, Giulione, di dove sei? Motto di Rivenza in provincia di Treviso, di Treviso, Zagarolo in provincia di Roma, professione? Pallavolista, pallavolista, aspirante pallavolista, ruolo? Centrale, schiacciatore, opposto, un tuo pregio? Mi reputo abbastanza simpatico, dai. Ma la simpatia, amo scherzare con i miei amici. Ma l'essere abbastanza socievole con tutti, dai, mi piace stare in mezzo al casino. Un tuo difetto? Permaloso? Un po' permaloso lo sono. A volte mi nervosesco facilmente. Sei fidanzato? Sì. No, sono single. Sì. Con quante ragazze? Con una, con una. A che età fuori di casa? A 16 anni. A 20 anni, perché ero di Treviso e quindi giocavo con la Sisley, quindi stavo a casa. 16 anni. Società in cui sei cresciuto? Sisley di Treviso. Società di provenienza? Andreoli Latina. Sisley Belluno. M Roma Volley. Squadra in cui militi? Castellana Grotte. Si potrà ancora vivere di pallavolo? Eh, coi tempi che corrono difficilmente. Anche rispetto all'anno scorso, penso che i budget delle società e anche gli stipendi ai giocatori siano diminuiti drasticamente. Speriamo di sì, lo spero sinceramente. Però, coi tempi che corrono non è molto facile. Ma attualmente è un brutto periodo per il nostro movimento, però speriamo di sì, dai. L'infortunio più brutto? Fortunatamente non ho avuto grandi infortuni, solamente le varie caviglie che partono, diciamo, a tutti quanti. Eh, ne ho avuti abbastanza per la mia giovane carriera. Però il più brutto forse è quello di quest'anno. In Romania mi sono rotto il venisco, quindi è un po' aggravato la stagione. Ma, a parte distorsione e le caviglie, nient'altro. L'azione più bella della stagione? Mi vengono in mente i due muri fatti contro Latina che ci hanno fatto vincere il secondo set. Forse l'Ace contro Modena. Ma ce ne sono tante. Un bel attacco contro Modena, ci sta tutto, dai. Fai la radiocronaca. Ed ecco, primo tempo, suo patriarca, muro di Cester. Entra Adolfo, momento caddo della partita. Va in battuta, tira, Ace. Adolfo, glaciale, fa l'Ace per Castellanagot, la porta avanti. Tacco avversario, difesa di Paparoni, Falaschi corre, l'alza dietro in seconda linea, arriva Sabbi. Sportellata in diagonale. Punto per Castellanagot. La più grande soddisfazione? Penso la prima chiamata in nazionale da parte di Berruto. La più grande soddisfazione? Beh, i diversi scudetti giovanili e la convocazione nazionale di Berruto, la prima. Allora, c'è lo scudetto Ander 20 a Treviso e poi, vabbè, l'anno Isernina 2, dove sono stato top scorer del campionato. La soddisfazione che deve ancora venire? Il fatto di vincere un qualcosa. Spero la convocazione in una manifestazione importante con la nazionale e di vincere qualcosa di importante. Spero ce ne siano tante, in primis con la nazionale, speriamo. Cosa cercavi da questo campionato? Cercavo continuità, quella che ho espresso l'anno scorso a Latina, facendo un buon campionato. e spero, insomma, di portarlo anche quest'anno. Cercavo di giocare abbastanza. Purtroppo ho avuto questo infortunio, adesso spero di riprendermi un po'. Delle conferme. L'allenatore con cui hai avuto meno feeling? Questa non è la sua preparata. Ma no, diciamo che con tutti puoi avere degli alti e dei bassi, non è che ho avuto un allenatore... Va bene, dai, vai avanti. Bella domanda. Ne ho avuti... sono un po' un carattere difficile. Ne ho avuti diversi, però è stato sempre un alto e basso, quindi non posso dirne uno in particolare. Ma diciamo che ne ho avuti diversi e mi sono trovato abbastanza bene con tutti, non ce n'è uno che non ha avuto un buon feeling. L'allenatore a cui devi di più? Ma penso a tutti gli allenatori del settore giovanile a Treviso, che sono quelli che ti danno le basi per arrivare. L'allenatore alle giovanili della Sisley e piazza, perché mi ha fatto crescere sia dal punto di vista tecnico, quello sicuramente, però dal punto di vista morale mi ha fatto crescere. Michele Zanin, di Treviso, dell'Under 20, e Andrea Gianni, l'anno scorso a Roma, mi ha insegnato molto. Come si vive al Sud? Si vive bene, sono due anni che vengo qui in Puglia, ho la fidanzata di Gallipoli, quindi mi ci trovo bene. Si vive bene, dai, si mangia bene. Ma si vive abbastanza bene, dai, poi io essendo di Roma, diciamo che le differenze non si notano molto, quindi mi trovo benissimo. Come passi il tempo libero? Lo passo insieme ai miei compagni o a casa davanti alla TV, alla Playstation, insomma, queste cose da giovani. Con i miei compagni di squadra usciamo ogni tanto, o se no a casa con la TV e l'Xbox. Ma con i miei compagni di squadra usciamo, oppure quando sono a casa guardo la TV, computer, l'Xbox, quello che passa. Il gesto scaramantico pre partita? No, non penso di avere niente, nessun gesto. Porto le mutande Pompea, da quando giocavo con le giovanili porto sempre quelle. Sono uno abbastanza preciso, di solito mi sistemo sempre la maglietta dentro i pantaloncini, voglio essere sempre ben accurato. Birra con gli amici o cena a lume di candela? Dipende, dipende se c'è la fidanzata o cena a lume di candela, altrimenti birra con gli amici. Adesso più birra con gli amici, ma sono un tipo abbastanza romantico, quindi se trovo la ragazza giusta anche cena a lume di candela. No, tutte e due, birra, dipende dall'occasione dai, birra con gli amici, cena o lo stesso. Quanti amici hai su Facebook? No, non ho Facebook. Non lo so, ne avrò due mila e qualcosina. All'incirca quattromila, più o meno. La proposta più strana che hai avuto da un tifoso? Sinceramente non mi viene in mente niente. I calzoncini, a fine campionato abbiamo chiesto i calzoncini da gara. Le mutande, le mutande dopo una partita. Canta il coro a te dedicato che ricordi con più piacere? Sfortunatamente non c'è un coro, al massimo possono dire ceste, ceste. Ma hanno avuti tanti in particolare, se no sempre Dolfo, 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 Dolfo. E Giulio Savi, la 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 la. Il compagno di squadra che porteresti sempre con te. Non uno, me ne porterei due qua ai miei due compagni che sono con me oggi. Eh, loro due dai, li porterei sempre insieme. Ma ne ho avuti tanti, quest'anno mi sto trovando bene con Enrico e Ludovico. Sono i miei due amici da tanti anni e li porto con loro, con me. Il tuo idolo pallavolista? Gustavo ti posso dire, Samuel e Papi sicuramente. Fai. Mauro Beruto al telefono, vuoi venire a Rio? Mannaggia subito, arrivo. I portaggi. No, verrei anche in balizia, verrei. Andiamo, dai eh. Punto decisivo messo a terra, come sul tiglio? Si, cazzo! Siiii! Quanti tatuaggi hai? Ze, neanche uno. No, nessuno. Due. E li ho fatti perché sono tutte e due significative. Questo è il mio nome e questa è un'aquila. Malolizzi. Cartone animato preferito? Dragon Ball ti posso dire. Dragon Ball e Slam Dunk, mi piaceva tanto. Tom & Jerry. La tua squadra del cuore è? Castellana Grotte. L'Inter, calcisticamente parlando. La Lazio. A quale cibo nel tuo frigo non sai resistere? A tutti i dolci. La piada, la classica piada. Kinder Maxi. Cosa manca nella tua vita? Un sacco di soldi mancano. I soldi, la felicità, la famiglia, ma sono discorsi troppo seri. Nulla penso, sono abbastanza fortunato. Qual è la prima cosa che guardi in una donna? Non guardo più niente ormai. E il viso? L'aspetto fisico sicuramente. E poi deve essere simpatica, intelligente. Canto un canto tipico del tuo paese? Non ce l'ho. Da che le punta, da che le taglio, finchè la molla. E dopo va avanti ma è un po' volgare. Tanto per cantare perché nel cuore me ce n'ha... No, dai, sono sbagliato. Perché nel petto me ce n'ha schi un fiore, ragazzo. Mi sono emozionato. Tanto per cantare perché nel petto me ce n'ha schi un fiore. Qual è la tua canzone preferita? Non ce l'ho. E adesso Scream and Shout. I wanna scream and shout and let it out. Vabbè, basta, dai. Vola, un'aquila del cielo. Favorevole o contrario? Blocco delle retrocessioni. Contrarissimo. Contrarissimo. Mi astengo, dai. Stranieri in nazionale italiana. Un po' contrario. Un po' contrario. Non ci sono. Ritiri punitivi. Se ci stanno, favorevole o contrario, dai. Possono starci anche se quando ci sono dentro sono contrarissimo. Contrario. Il compagno di squadra più, simpatico. Io? Più simpatico, loro due sempre. Dolfo. Serio. Falaschi. Serio Josifov. Falaschi. Dedito al lavoro. Falaschi. Falaschi. Cester. Fancazzista. Sabbi. Più fancazzista, forse io. Dolfo. Un aggettivo per Enrico Cester. Poi sai che qua puoi già stoppare... Anche lui. Molto simpatico, mi trovo bene con lui. Simpatico, dai. Ludovico Adolfo. Super dormiglione. Divertente, dai. Grandor Milione, ma di brutto pure. Giulio Sabbi. Iperattivo. Ragazzo, iperattivo. Giulio Sabbi e il Conte. Fai la faccia più brutta che puoi. Di una barzelletta. Non ce l'ho. Vai, vai avanti. Allora, ci sono due monete che cadono dalle scale, che scendono dalle scale e una fa l'altra. Occhio! E l'altra, eh? Bella, eh? Allora, un signore gira per strada e vede un cane con un semaforo in culo. Si avvicina al proprietario e dice ma scusi, ma che cane è? Un incrocio. L'arbitro decreta fuori un tuo attacco, nettamente in campo. Come reagisci? Non prendo lo tiro giù da... da seggiorone. Ma guarda sto co... puntini, puntini. Il giro me ne vado. Il tuo palleggiatore ti alza una sola palla in tutto il set. Cosa gli sussurri nell'orecchio? Oh, ricordati che ci sono anch'io, eh? Buona! Guarda che ci sono anch'io, eh? Oh, che stai a fa? Prima, vai! L'allenatore decide di tenerti in panchina nel momento caldo del match. Cosa pensi? Guarda questo che cavolo sto facendo. No comment. Puntini, puntini. Tante brutte cose. Non penso. La Sisley Treviso non parteciperà più al campionato di A1. Come hai reagito? È stato... tra virgolette colpo, perché è una società storica come può essere Modena. Sai, ci resti male. È stato un duro colpo anche perché l'ho vissuta in prima persona e l'ho vissuta male. La società che mi ha fatto crescere e che non ci sia più non è possibile. una società come la Sisley deve esserci sempre. È stato un brutto colpo. Dopo tanti anni, dopo trent'anni di attività una società così gloriosa che chiude da un giorno all'altro non è stato un bel colpo, dai. Il più bel ricordo della trafila giovanile? Sicuramente tutti i campionati vinti, i vari successi, insomma, che abbiamo avuto. I quattro scudetti giovanili e tanti compagni con cui ho legato e mi trovo anche qui, in questa stanza. Eh, ce ne sono tanti. Dallo scudetto under 20, poi tanti campionati fatti lì, tanti amici, allenatori, gente che conosco. Diciamo che ce ne sono tanti ricordi belli, dai. Come si viveva il volley a Treviso negli anni d'oro? Eh, si viveva... ogni tanto ne parliamo e si stava... anche se noi eravamo giovani nel senso si stava veramente bene, ci andavamo a allenare con i vari Cisolla, Papi, Gustavo, Emilio. Avevamo 16-17 anni, quindi si stava proprio bene. Eh, si viveva alla grande. Cioè, ricordo ancora il palaverde pieno nel finale scudetto e l'ambiente che comunque era vincente. Eh, c'era... c'era un bel clima, c'era tanto entusiasmo, c'era... si vinceva tutti gli anni, scudetti, coppe, adesso sinistra, era... erano bei... begli anni, ero. Sfida 3. Chi è il più bello tra di voi? Dolfo. È ricco. È ricco. Chi dorme di più? Dolfo. E se questo non ci piove? Io, purtroppo, io. Dolfo. Chi fa più colpo sull'altro sesso? Dolfo. Cesto. Enrico. Chi fa più colpo sullo stesso sesso? Dolfo. No, nessuno dei tre, lei. Nessuno. Io. Chi guadagna più dei tre? Sfortunatamente sabbi. Giulione. Io. Chi guadagna più Marsali. Chi guadagna più delle tue. Chi guadagna più delle tue. Che figlie. Allora benissimo. Chi guadagna più delle tue. Chi guadagna più delle tue. Chi guadagna più delle tue. Grazie.